Greta Cicolari, si è concluso un 2011 fantastico, che annata è stata? È stata un'annata che mi ha tolto molte soddisfazioni, è iniziata con un bel secondo posto ed è finita con un bel bronzo a Puket passando poi per un europeo vinto, quindi direi da incorniciare anche se si può sempre far meglio Che cosa ti aspetti dal 2012? Ovviamente sembra banale ma fare un bel risultato alle Olimpiadi, non che tutto il resto non conti perché ci piacerebbe comunque difendere il nostro titolo europeo che sarà a fine maggio fare medaglie se si può al World Tour ma ovviamente è il pensiero principale a Londra Avete raggiunto questo fantastico traguardo della qualificazione olimpica, è una bella soddisfazione? Sì perché ci permette di lavorare serenamente mirando la nostra preparazione a fine luglio senza avere ulteriori stress che avranno tante altre coppie Gli allenamenti sono già iniziati? Sì abbiamo fatto una prima seduta di una decina di giorni a dicembre e adesso è una settimana che abbiamo ricominciato con la preparazione atletica e piano piano rientro diciamo la sabbia insomma Il primo torneo al quale parteciperete? In Brasile, non si sa ancora se eri io o Brasile a metà aprile Ok, grazie Grazie a te